Consorsi di bonifica, rivoluzione più vicina, ok in giunta alla riforma che dà vita all'ente unico. Il testo proposto da Occhiuto e Gallo passa all'esame del Consiglio. In aula prima della pausa il governatore ha già annunciato la fiducia. I soldi dell'Andrangheta dietro il maxi sequestro da 5 tonnellate di cocaina, i dettagli delle indagini della DDA di Palermo, il costo del carico per le cosche era di 135 milioni, monitorati i contatti tra calabresi e siciliani e nuovi server criptati in Olanda. 30 anni fa l'omicidio di Lolo Cartisano, rapito dall'Andrangheta e portato in Aspromonte, decise di essere un uomo libero. A Bovalino il ricordo del fotografo scomparso il 22 luglio 1993, presentato il libro Guida all'Aspromonte misterioso. La Calabria punti su eolico offshore rinnovabile, a Crotone la tappa di coletta verde di lega ambiente. Per il futuro della regione queste sono le sfide decisive. Un deciso no invece ai regassificatori. Ben ritrovati, nuova edizione dell'altro Corriere Tg, come sempre un saluto dalla nostra redazione. Apertura che in questa edizione dedichiamo a quella che possiamo definire una vera e propria rivoluzione per i consorsi di bonifica. Dopo l'approvazione, il via libera, alla riforma, riforma che di fatto dà via all'ente unico. Il testo infatti disporrebbe del superamento degli attuali 11 consorsi di bonifica con la creazione di un unico consorzio su base regionale, articolato sempre in 11 distretti corrispondenti ai territori degli attuali consorsi, che vorrebbero così contestualmente soppressi e messi in liquidazione. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Un fine luglio rovente anche per la politica e non solo per le elevate temperature. In ballo c'è la riforma dei consorsi di bonifica che il presidente della regione Roberto Occhiuto vorrebbe far approvare rapidamente anche ricorrendo al voto di fiducia. L'obiettivo è di migliorare l'efficienza, ripianare i debiti e ridurre gli sprechi, servire meglio il territorio e le attività produttive per gestire adeguatamente la risorsa acqua. Intanto la regione incassa il primo ok alla riforma nell'ultima seduta, la Giunta, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il disegno di legge che prevede una profonda riorganizzazione del sistema consortile. A quanto si è appreso, il testo dispone il superamento degli attuali 11 consorsi di bonifica con la creazione di un unico consorzio su base regionale, articolato sempre in 11 distretti comprensori corrispondenti ai territori degli attuali consorsi che verrebbero contestualmente soppressi e messi in liquidazione. Il personale a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore della riforma, dovrebbe transitare nel nuovo ente. La riforma adesso passerà all'esame del Consiglio regionale. L'intenzione del presidente Occhiuto, che nelle scorse settimane ha annunciato di voler porre la fiducia sulla riforma, è quella di farla approvare nella seduta precedente alla pausa di ferragosto. Una data possibile è quella del prossimo 2 agosto. Ruolo fondamentale, lo sappiamo, in Calabria, quello dei consorsi di bonifica, tanto più in questo periodo, nel periodo estivo, dove l'allerta e la soglia di allerta per gli incendi sul nostro territorio è davvero altissima. Prova ne è quest'ultima settimana, dove il numero degli incendi e dei roghi, soprattutto nelle zone aspromontane del Regino, si stanno moltiplicando, in particolare ai piedi dell'aspromonte. Intanto, ieri c'è già stato un primo incontro in prefettura davvero importante per definire le linee guide, per sostenere un'eventuale emergenza che, almeno al momento, è comunque contenuta. Brucia ancora l'aspromonte Ionico. Dopo le decine di ettari di macchia mediterranea ridotti in cenere nei territori dei comuni di Motta San Giovanni e Montebello Ionico, gli incendi hanno interamente divorato circa 15 ettari di conifere nel territorio del comune di San Luca, nel cuore del parco dell'aspromonte, tra Montalto e il santuario della Madonna di Polsi. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio coadiuvati dai velivoli Canadair è riuscito finora a contenere il propagarsi delle fiamme, anche se le temperature africane di questi giorni continuano a rappresentare il vero pericolo di nuovi fronti di fuoco. Intanto, in tutta l'area grecanica del basso Ionio Regino, nei comuni di Roccaforte del Greco, Rogù di Bagaladi, una delle zone maggiormente segnate due anni fa dai roghi, continuano a segnalarsi nuovi focolai, a legge allo spettro del ripetersi di quel tragico bilancio, quando furono cancellati dalle fiamme circa 7.000 ettari di area protetta, due aziende agropastorali e l'antica pineta di Montescafi a Roccaforte del Greco. In prefettura intanto è stato organizzato un importante incontro per coordinare le attività a salvaguardia della popolazione e a tutela dei beni, incontro alla quale hanno preso parte tutte le componenti del sistema. Voltiamo pagina a Spaziola Crona, che ha nelle prime ore di oggi, infatti, a Catanzaro e a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri di Monza Abrianza, con il supporto delle parti dell'arma territoriale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Monza su richiesta della procura nei confronti di un 56enne e dei suoi due figli di 31 e 29 anni, tutti indagati per tentato omicidio e porto illegale d'arma da sparo in luogo pubblico. L'indagine trae origine in seguito ai gravissimi fatti accaduti a Seregno lo scorso 11 luglio, quando due gruppi armati si sono fronteggiati a bordo di un furgone di un'auto in un cruento scontro a fuoco. Parliamo adesso invece del contrasto alla produzione e allo spazio di sostanza stupefacente, operazioni che nelle ultime settimane si sono intensificate, soprattutto nel territorio del Cosentino, dove le operazioni della Polizia di Stato si sono moltiplicate. I dettagli nel prossimo servizio. Un'altra operazione della Polizia di Stato di Cosenza volta a contrastare la produzione di droga e interrompere la vendita sul mercato illecito di stupefacenti. Il personale della squadra mobile di Cosenza, insieme ai colleghi di Catanzaro e del commissariato di Corigliano Rossano, hanno effettuato una perquisizione in un immobile situato nel comune di Amato, rinvenendo all'interno del fabbricato un impianto illegale per la coltivazione e la produzione di marijuana, oltre ad una copiosa quantità di sostanza stupefacente, parte della quale già confezionata e pronta per essere commercializzata. All'interno dell'immobile, fra l'altro, erano state realizzate delle serre sia per il primo impianto dei bulbi che per la dimora delle piante di marijuana già attecchite. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di decine di sacchi di plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 128 kg. Sono in corso gli approfondimenti da parte degli investigatori per identificare i responsabili. L'ultimo blitz in ordine di tempo ricorda, nelle quantità e nella struttura del capannone adibito a centrale della droga, altre due operazioni concluse nelle scorse settimane dagli uomini coordinati dal questore Michele Spina. Si tratta di quasi 500 kg di droga scoperta e sequestrata in 48 ore dagli agenti in servizio al commissariato di Corigliano Rossano, guidati da Giuseppe Zanfini e dai colleghi della squadra mobile di Cosenza, diretta da Gabriele Presti. A proposito di droga e del contrasto delle forze dell'ordine, facciamo un passo indietro e ripercorriamo i dettagli dell'inchiesta che hanno portato al sequestro più ingente di cocaina mai eseguito nel nostro paese. Circa 5 tonnellate di cocaina trovate a bordo del peschereccio partito da Bagnara e finito nel mirino della Guardia di Finanza di Palermo. Dietro al megacarico di droga ci sarebbero ovviamente le ingenti risorse finanziarie dell'Andrangheta. Fino a due giorni fa la caccia ai narcotrafficanti tra Sicilia e Calabria aveva portato al sequestro totale di 50 kg di cocaina. Il peschereccio partito da Bagnara e intercettato dai militari del Gigo e della Guardia di Finanza a largo di Porto Empedocle ha cambiato la storia delle indagini coordinate dalla DDA di Palermo. Più di 5 tonnellate di polvere bianca stipate in un doppio fondo ricavato in una parete della nave. È la prova che i traffici tra Sicilia e Calabria si traducono in un giro d'affari gigantesco. Tanto per fare due conti, l'acquirente del carico ha messo sul piatto 135 milioni di euro, un affare che, elemento corroborato dall'area di provenienza del moto peschereccio, soltanto l'Andrangheta sarebbe in grado di imbastire sul mercato del narcotraffico. Ma c'è un elemento di novità nell'inchiesta. Questa associazione fluida che tiene insieme calabresi e siciliani sarebbe dotata di utenze criptate riconducibili ad un unico server di nazionalità olandese. È da un tabulato a disposizione degli investigatori che si apre la pista calabrese. Una di queste utenze criptate si caratterizza per la sua stabile localizzazione nel comune di San Luca. La caccia porta ai finanzieri ad individuare la nave porta-container Plutus ed i suoi strani movimenti nel canale di Sicilia ed individuano la motopesca Ferdinando d'Aragona, la salpata da Bagnara Calabra e per la prima volta negli ultimi anni in navigazione nelle acque a sud della Sicilia. Poi l'inseguimento del maxi sequestro di stupefacenti che riscriverà la storia e cambierà il quadro di un'inchiesta che vede ancora l'Andrangheta al centro di traffici da centinaia di milioni di euro. Pottiamo pagina a spazio ai temi politici che si legano a quella che è l'emergenza sanità nel nostro territorio. Se ne discuterà molto presto nel prossimo Consiglio regionale. Un confronto positivo ed interlocutorio durato oltre tre ore nel quale sono state affrontate le principali emergenze calabresi. I segretari generali della CGL, CISL e UIL hanno incontrato il presidente della regione Roberto Occhiuto apprezzando nella disponibilità a discutere dei temi prioritari della sanità, del lavoro, delle infrastrutture, dell'ambiente e dei punti nevralgici dell'avvertenza Calabria. Si è discusso dunque di tutto riaprendo un dialogo sospeso da settimane e intanto Occhiuto si prepara al prossimo Consiglio regionale fissato il 25 luglio. Dieci i punti all'ordine del giorno ma tra i più importanti. Vi è la proposta di legge e di iniziativa della Giunta Occhiuto che prevede la proroga delle graduatorie del Servizio Sanitario regionale. Si tratta delle graduatorie approvate nel 2021 e scadenza nel 2023 relativamente ai profili di operatori sociosanitari ed infermieri. La proposta di legge ha come finalità quella di superare l'endemica mancanza di personale sanitario. Tra le altre proposte di legge in discussione, quella di iniziativa dei consiglieri regionali che prevede la modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia e ancora una modifica della disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica proposta da Mancuso, Caputo e Raso. Trent'anni fa l'omicidio di Lollo Cartisano rapito dall'antrangheta e portato in Aspromonte in una notte di luglio. Un ricordo che si rinnova ogni anno mentre in tantissimi percorrono proprio quella tragitto che in Aspromonte lo portò alla morte ai piedi di Pietra Cappa. E' sempre vivo e più presente che mai il ricordo di Lollo Cartisano a Bovalino dalla quale fu rapito nella notte del 22 luglio di 30 anni fa perché si era opposto all'antrangheta. Un ricordo che si rinnova ogni anno mentre in tantissimi percorrono quel tragitto che in Aspromonte lo portò alla morte ai piedi di Pietra Cappa. Lo è anche quest'anno che quel sentiero non verrà percorso ma sono diversi gli eventi organizzati dalla famiglia per ricordare cartisano e tutte le vittime innocenti dell'antrangheta. Tra questi la presentazione del libro Guì dalla Aspromonte misterioso, un volume scritto dal generale dei carabinieri Giuseppe Battaglia e dall'agronomo Alfonso Picone Chiodo con la prefazione di Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera. E' presentato al caffè letterario Mario Lacava di Bovalino. Una verità che ci ha sorpreso perché è un uomo che ci chiede perdono e che si pente e che ci fa un grande dono, quello di ritrovare il corpo di mio padre. Un dono inaspettato, tanto tanto voluto ma pensavamo di non vedere mai quel giorno lì. Per cui se nei primi dieci anni la speranza si alternava alla disperazione dopo almeno abbiamo potuto mettere la parola fine a quella storia. Ricordo le emozioni che ho vissuto anche nel mio paese di vedere accanto a me tanti giovani di Bovalino, quindi la speranza è che le prossime generazioni vogliano di nuovo mettersi in gioco perché si tratta di uscire un po' dalla propria comfort zone e metterci la faccia, impegnarsi e volere che le cose funzionino veramente. Spazio adesso al sindaco di Soverato Daniele Vacca che ai nostri microfoni descrive una stagione in forte crescita per il turismo a Soverato. Evidenziata anche la qualità delle acque, il Corriere della Calabria ha pubblicato la notizia relativa a quattro scarichi abusivi, per il sindaco invece il 100% del centro abitato è collettato. La situazione è quella di avere numeri importanti di presenza per quanto riguarda il turismo, quindi una città che si è attestato proprio ad accogliere tutti i turisti, una città dove c'è la qualità delle acque, sono monitorati puntualmente dall'Arcital. Noi come Comune abbiamo in questi anni collettato il 100% delle utenze, quindi nessun scarico va a mare, in giù si sta facendo un successo di efficientamento sul depuratore, nonché lo sportamento del depuratore dall'arenile della spiaggia. Quindi le cogne e scariche abusivi su Soverato non esistono, ma questo è il frutto di un monitoraggio di almeno 5 anni. In chiusura del nostro OTG invece andiamo a Crotone con l'incontro organizzato da Goletta Verde di Legambiente. L'appello al Governo puntare sempre di più sulle rinnovabili a partire dall'eolico offshore, sbloccando i 22 progetti a fonti rinnovabili in attesa ancora della valutazione statale. Puntare sempre di più sulle rinnovabili a partire dall'eolico offshore è questa. Per Legambiente la sfida che la Calabria deve affrontare, visto che in questo territorio tre quarti dell'elettricità è ancora prodotta da fonti fossili. La Calabria deve riuscire a trasformare l'emergenza climatica, energetica e sociale in opportunità di crescita e sviluppo del territorio, non solo per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche per portare innovazione nei territori, al settore energetico e nuovi posti di lavoro. Se ne è parlato in occasione della tappa in programma a Crotone di Goletta Verde storica, campagna estiva di Legambiente e navigazione. Sì, ad oggi è ancora troppo lento l'iter per sbloccare questo tipo di autorizzazioni, quando invece sugli impianti ancora riferiti alle fonti fossili i tempi sono sicuramente più ridotti, quindi chiediamo di velocizzare questo tipo di impianti perché abbiamo necessità di passare a un'energia a fonti invece rinnovabili, tra cui appunto i progetti di eolico offshore. Eppure la Calabria è una regione con un potenziale importante, come raccontano i 22 progetti a fonti rinnovabili in attesa di valutazione statale, tra cui 4 di eolico offshore per complessivi 2,93 gigawatt di potenza. Il più distante dalla costa è il progetto da 555 megawatt ed è previsto se autorizzato nello specchio acqueo del golfo di Squillace. Il meridione ha un potenziale riguardo alle fonti energetiche rinnovabili di sicuro più alto rispetto alle altre regioni in Italia. L'Italia ad oggi secondo il nostro governo nazionale può diventare solo l'hub delle fonti fossili, in realtà appunto noi quello che diciamo e sottolineiamo ormai da tempo è invece esattamente la direzione contraria, cioè le nostre regioni, tra cui la Calabria ma anche le altre regioni del sud, devono e possono portarci fuori dalle fonti fossili. Bene, era questo il nostro ultimo servizio, grazie per la vostra cortese e attenzione, vi lascio adesso ai programmi dell'altro Corriere TV. Grazie a tutti.